Sala gadula, mencica bula, bibidi bobidi bu, mettele insieme che accade laggiù, bibidi bobidi bu. Sala gadula, mencica bula, bibidi bobidi bu, fa la magia tutto quel che vuoi tu, bibidi bobidi bu. Ma stai continuando a tossire, tu ti sei alzato tossendo, sei andato in bagno tossendo e stai ancora tossendo. E allora? Si può sapere che cosa è tutta questa? È la tosse primaverile, i bobidi, la stagione, fammi sentire, ti vedo gonfio, ti vedo gonfio, qui ti vedo gonfio, sei gonfio, no non sei gonfio, lasciami stare. Senti, facciamo una cosa, dobbiamo cominciare col protocollo mattutino. Il protocollo mattutino, ma ci capisce, il protocollo mattutino, eccolo qua. Allora, scolta, cominciamo con questa, no nessuna colazione, prima il protocollo. Il saturimetro, bene, il saturimetro, ecco qua il saturimetro. E da ieri sera che tossisci, lo sai che non bisogna tossire. Non bisogna, bisogna morire nei propri liquidi proprio. In questo momento, in questo periodo, se si ha tanta tosse, bisogna controllare la saturazione. Ci stiamo saturando qua, ecco, com'è? Perché non suona? Ci mette troppo tempo per suonare. Perché a forza di usarlo, lo usi ogni momento. Avrai la saturazione bassa, sono sicura che basta. Ecco, 99,69, eccola qui. 99,69. Sono ancora vivo. Va bene. Mi contenta, sono la tua unica fonte di reddito perché mi devi tenere il lustro come un fischietto. E mi preoccupo per te, dammi. E adesso passiamo a quest'altro. Cosa l'è? Il termometro. Oh, madonna, anche il termometro. Sì, ascolta. Dimmi. Dove te lo metti? Dove vuoi che me lo metta? Nell'intimo. Così facciamo prima se non lo metto. No, in bocca io non metto proprio niente. Questo qui non so mai dove è andato prima. Per cui in bocca io non lo metto. No, dai, vabbè. L'intimo o l'ascella? L'ascella. L'ascella è più confidenziale. Ci vuole un po' di tempo però, eh. Eh, pazienza, aspetteremo. Tanto non è che dobbiamo morire dopo domani, eh. Che se no non sentiamo il bip. Il bip. Eh, tanto non ci mette tanto, sai. Ci sta mettendolo troppo. No, perché sta bisogno della temperatura di uno vivo. Non sento che fa bip, perché non fa bip. Dovrebbe fare bip, dovrebbe fare... Bip, ha fatto bip. Sicuro? Ha fatto bip o mi stai prendendo in giro? No, ha fatto bip, con la P. Senti, quanta temperatura hai? 36,8. Anche questo dice che sono vivo. 36,8, va bene. Bene, adesso posso... No! Cosa vuoi ancora? Ci manca un'altra cosa. Questa roba qui. Forza. Cosa l'è? Ah, mamma mia. Misuriamo la pressione. Sono sicura che la tua pressione sarà un pochino alta. Certo, perché se no la nostra giornata non ha un significato, se non c'è qualche guaio di preoccuparsi. Sai, a volte penso che dovrei essere un pochino più tranquilla con te, perché... Impossibile. Mi sento un pochettino assurosa. Tu tranquilla? E che tu, e che tu continui a tossire, tossici di notte, tossici di giorno. E' come l'acqua secca, è un ossimoro. Tu non puoi essere tranquilla. Non saresti tu se fosse tranquillo. L'hai messo bene? Benissimo. Non vedo quel tubo che scende dritto, quel tubo dovrebbe scendere davanti, non dietro. E' uguale, la pressione da qui o di là è sempre uguale. Sta facendo, sta durando troppo. E' finito. 121,89. Promosso. Oh, madonna, è troppo bassa così. No, è vasto per noi. Ma no, scusa, ma tu hai quasi 70 anni, non puoi avere 120 di pressione. Allora, facciamola salire con un bel caffè e una bella colazione robusta. Che ho un appetito gagliato. Sì, va bene, senti, il caffè è lì, è solo da versare. Ma prima, cosa c'è? Ma dammi quelle mani. Cosa c'hanno le mie mani? Le mani? Anche il corriere. Sì, no, leva, non ti mangiare il giornale. Levati su, l'alcol di prima mattina sembra un'alcolizzato. Togli quella roba da lì che dovevi di potere anche il giornale. Dai, vai che schifo che hai fatto qua. Possibile. Adesso, forse, possiamo bere il nostro caffè per iniziare la giornata. Benissimo, un'altra radiosa giornata a Casa Silfredo. Eccoci qua. Ciao, ciao.